Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono code in uscita a Barberino del Mugello, provenendo da Firenze, per traffico intenso. Sul raccordo Siena-Firenze, riduzione di carreggiata per lavori tra Colle Valdelsa Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle, scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia, senso unico alternato tra Carrara e Ortonovo dalle 9 di stamattina. Sulla statale 3 Bistiberina, riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Modonuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!